Ciao ragazzi, sono Pallimon98 e siamo su Electric Man 2 Allora, facciamo una nuova partita Allora, mettiamo il mio nome Allora, vediamo che colori ci sono Boh, prendiamolo Dai, verde Livello... Dai, normale, va bene Allora Dovrebbe essere un gioco tipo lotta Ok Quindi devo distruggere sto cosino Tipo siamo un robot Non so cosa sto facendo, vabbè Perché si gira? Che bello La violenza Ok, l'ho ucciso Oh, mi sono cambiati i pulsanti questi qua Allora Ah, così va il rallentatore Ah, va bene, allora Che bel gioco Boh, qui non c'è molto da dire Praticamente devo uccidere tutti i nemici che ci sono E non muore sto coso Ok Non so cosa è successo Ma ho vinto No, adesso posso scegliere Una missione, allora Dai, mi ispira questa Ciriam Guard O come si legge Dai, che si può vincere Perché fa la ruota? Dove stanno andando qui due cose? Allora No Poi perché allora hanno tutte le armature e sono nudo? Oh, sì Dove va, dove va? Che gioco stupido Sì, faccia la ruota Ma non muoiono sti bagagli Ok Ho vinto Grande Quindi ho completato il primo Dai, finiamo tutte le missioni Allora, tanto dura un poco Dai Che bello, buttare la gente in aria Sì, sono scontrati Pugno e ralentatore Sì Cosa sta facendo? Mamma mia Quanto è potente Sto nero Oh, uno è morto Vabbè che mi prenda calcio in culo Vabbè Allora Pah Vabbè sto video non credo sia molto divertente Però vabbè Per far qualcosa Eh no Mi suicido Questa cosa Grande Secondo livello Fatto Vabbè Visto che c'è tempo Li finisco tutti Allora Qui non ho capito Non ho letto cos'è Che dovevo fare Vabbè Questi bagaglini qui ancora Ah, la loro vita è là sopra Ok E lì c'è la mia Perfetto Allora Vediamo Perché ce n'è uno che ha più vita degli altri Allora Ne sto per uccidere uno So che non capisco chi è Quale che ha la vita No, sono morto Che brutta cosa Vabbè Direi di finire Qui questo video Nel prossimo Continuiamo Andando avanti Tanto Non video molto breve Su un gioco stupido E poi tanto Nessuno mi guarda Quindi va bene Mi sembra giusto Vabbè Ci vediamo al prossimo video Ciao